Grazie Mera Luisa, torniamo in Italia perché fa già parlare di sé e molto la trattativa in corso tra Intesa San Paolo e i sindacati di accorciare a quattro giorni la settimana lavorativa. Sarebbe il primo caso in Italia. L'idea di fondo è meno stress, maggiore produttività. Anche in Italia arriva la settimana corta, anzi cortissima, quattro giorni lavorativi anziché cinque o sei, più tempo per se stessi. Una giornata lavorativa più lunga e densa di impegni a giustificare lo stipendio, che resterebbe lo stesso. La proposta è sul tavolo del rinnovo contrattuale per i 76.000 dipendenti di Intesa San Paolo. E l'istituto di credito, il più grande del paese, potrebbe diventare apripista dalle nostre parti. La bozza prevede un impegno lavorativo su quattro giornate, con un incremento orario di un'ora e mezza in più al giorno, ovvero nove ore anziché sette e mezza, per un totale di 36 ore settimanali. Uno schema già previsto dal contratto nazionale dei bancari, ma mai applicato finora. Il principio guida la flessibilità. La volontarietà di accesso allo smart working e quindi anche alla settimana corta, il rispetto del benessere dei lavoratori, la loro inclusione nella vita aziendale, sono i nostri obiettivi insieme ad una opportunità che tutti i gruppi bancari possono realizzare in accordo col sindacato aziendale. Meno gente in ufficio significa anche per l'azienda un risparmio in bolletta ai tempi della crisi energetica e per i dipendenti un bel taglio alle spese di trasporto. Molte le nazioni europee che hanno adottato la settimana lavorativa di quattro giorni senza ridurre lo stipendio, in Belgio, l'ultimo paese europeo ad adottarla, esiste anche la possibilità di distribuire il monte ore lavorativo settimanale spalmandolo pure su tutti i sette giorni.